Mi chiamo Sara, ho 18 anni e penso di essere molto spontanea. Il teatro ha arricchito la mia vita perché mi ha insegnato ad essere me stessa, senza avere timore di mostrare il mio vero carattere, i miei interessi e le mie passioni. Quando sono andata in scena per la prima volta avevo 7 anni e non avevo ancora ben capito cosa stavo facendo e anche lì presi tutto un po' come un gioco. Mi è mancato particolarmente il contatto fisico con i miei compagni, ma anche stare sopra un palcoscenico. Penso che il teatro serva principalmente per entrare in contatto col tuo vero io, per imparare a relazionarti con te stesso, a piacerti e a capire cosa ti piace fare, a esprimerti e a trovare le tue vere passioni. Grazie per la visione!